Polemiche e veleni a Palazzo Carafa durante la seduta del Consiglio Comunale di Lecce. Ad innescare la miccia un post pubblicato su Facebook in questi giorni dall'assessore alla mobilità Marco De Matteis, con il quale, in risposta ad un cittadino che nutriva forti perplessità sulle piste ciclabili collocate in via Piave, replicava tirando in ballo vecchie questioni giudiziarie e usando una buona dose di sarcasmo. In fin dei conti ha scritto «Parlare di ciclabili e buche a un certo punto può essere noioso per tutti. Ritorneranno i fassi delle case popolari, dei passi falsi, inchieste sul racket e scambio di voti? Può essere che il cittadino lo apprezzi di più. Noi torneremo alla nostra vita senza smania di potere, ma con la convinzione di aver provato a rendere la città più inclusiva, giusta e più a misura di tutti». La senatrice Poribortone, a nome di tutto il centrodestra, ha chiesto a quel punto al sindaco di prendere le distanze da quel post, ma Salvemini ha minimizzato e una critica politica e nulla più. Molti degli assessori qui a fianco ha messo un oggetto quotidiano di contumeli, offese e dichiarazioni all'imbite della censura, ma che non hanno mai scatenato dichiarazioni anche quando parvenivano da soggetti con responsabilità amministrative. Quindi, senatrice, io non ho da assumere alcuna iniziativa, aspetta a voi eventualmente agire per difendere l'eventuale onorabilità calpestata. Ma per Adriana Poribortone si tratta invece di diffamazione, perché quel post ha creato un danno di immagine anche a chi è seduto qui e si candiderà nelle prossime elezioni, perché, secondo il nostro assessore, i politici di centrodestra faranno le cose che ha elencato. A quel punto i consiglieri di centrodestra hanno abbandonato l'aula tra vibranti proteste, un clima da stadio a un anno dalle elezioni amministrative. Così non è, continuate tranquillamente a fare il vostro consiglio comunale, vostro, esclusivamente vostro, con tutte le vostre responsabilità.